il faro è un punto di riferimento se vuoi è una luce che ci accompagna quando entriamo in casa è un oggetto evocativo appunto il discorso del faro questa distanza questa avvicinarsi questa insomma questa via no poi la sua sensualità secondo me ci hanno detto molto sensuale le forme la morbidezza delle forme il colore insomma e poi anche poetico come oggetto le trasparenze di questi vetri insomma un oggetto abbastanza semplice ma una bella semplicità naturalità così la sorgente è una scheda led da 19 watt e mezzo insomma quindi arriviamo a 2000 lumen quindi è bella forte poi questo accostamento tra il trasparente del vetro trasparente e la parte bianca che iluvina parte bianca che dà luce e questo contrasto anche che interessante abbiamo quattro colorazioni che sono il cristallo che colore basico o trasparenza insomma poi abbiamo l'ambra scuro poi abbiamo una terra bruciata che è un verde antico